cari miei zuccherini e zuccherine good morning oggi nuovo video assaggi andremo ad assaggiare tutte queste bevande che ho comprato da action ci sono svariati gusti e quando li ho visti ho detto ah 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 devo assaggiare tutto ed ora mettiamoci all'opera sulla mia destra abbiamo birdie cake bubble game e tropical sinistra abbiamo marshmallow mango bevanda chupa chups al gusto di fragola e bevanda chupa chups al gusto di melone e cream flower assaggiamo ha un profumo molto dolce vi dirò dunque sa molto di zucchero filato e per l'appunto è anche no sugar quindi senza zucchero e mi ricorda a parte proprio il retrogusto mi ricordo una torta anche alla fragola è frizzantina difatti appena ho versato la bevanda del bicchiere ha fatto subito ho fatto subito le bolliculine quindi che dire cari miei zuccherini zuccherine bevanda promossa proviamo la bevanda bubble gum dunque 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 anche questa bevanda è molto frizzantosa e mi ricorda tanto le cicche quelle al gusto di anguria ne assaggio ancora un po' e si esattamente mi ricorda il retrogusto delle cicche all'anguria al momento posso dirvi che tra bubble gum e birthday cake mi vince bolliculine cake ora assaggiamo bevanda tropical dunque questa bevanda non ha sfrizzato come le precedenti e per l'appunto all'interno ha svariati retrogusti che vanno dalla pesca all'ananas al gusto di banana mi ricorda tanto anche il mango devo dire che è molto meno dolce rispetto alle altre due e si e si beve con piacere ecco ora proviamo la bevanda al marshmallow ragazzi questa è buonissima e ricorda tantissimo per l'appunto il marshmallow sia quelli bianchi che quelli rosa alla fragola questa buonissima direi ora bevanda gusto mango allora ho assaggiato questa mimita ma innestamente parlando non è che mi entusiasmi proprio più di tanto sarà che non è molto zuccherosa quindi non so mi dà l'impressione che perde un po' di gusto e mi dà l'impressione di dire insipida però insomma questa no questa la boccio bevanda ciuppacciuzza alla fragola allora ha un gusto molto fragoloso e molto molto pannoso e è dolce non posso dire il contrario però mi sento di promuoverla anche se dopo tanto così io credo che una persona possa essere già bella a che posto perché è molto strong a livello di zucchero ecco e del last proviamo la bevanda ciuppacciuzza al gusto di melone mi baso un po' sulla spiegazione del ciuppacciuzza alla fragola nel senso che sa molto di melone ovviamente è frizzantosa ed è pannosa anche questa di fatti appena l'ho versata anche questa ho proprio fatto perché è frizzantosa ok quindi mi sento di promuoverla anche se rimango del parere che una volta che ne bevi tanto così penso insomma di dire va bene ok adesso basta rollo di tamburi bene bene ora facciamo una classifica ai primi posti mi sento di mettere burning cake e bubble gum molto buona poi facciamo un secondo posto dove mettiamo tropical marshmallow no mango terzo posto mettiamo chupa chups alla fragola e quella al melone ora io mi invento un quarto posto e ci rifilo la bevanda al mango qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù commentate condividete iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video ciao a tuttissimi